Il mio cavallo si chiama Tari Snap. Lui è un cavallo dal cuore d'oro e l'abbiamo comprato l'anno scorso e è sempre stato con me e io li voglio bene e credo che me ne voglia anche lui. Vado a cavallo da quando ho 4-5 anni, faccio il running da sempre però ho iniziato a fare gare di questa disciplina da quando ho 10 anni. Prima facevo le gare di performance, vado a scuola e poi torno, mangio, vado a cavallo e la sera faccio i compiti. Ce la faccio, riesco a organizzarmi. Pur di andare a cavallo faccio di tutto. Questa disciplina è sempre stata una cosa piacevole farlo perché è una cosa che mi piace e quindi mi viene anche voglia di farlo. Ci vediamo a Fiera Cavalli Verona dal 25 al 28 ottobre. Musica Musica Grazie per la visione!